Il valore complessivo del mercato del trasporto pubblico locale in Italia è di circa 11 miliardi di euro. Numeri alla mano il settore da lavoro a circa 114 mila addetti, l'autorità di regolazione dei trasporti ha emesso un provvedimento che punta a semplificare le misure per la redazione dei bandi, per l'assegnazione dei servizi. L'obiettivo è migliorare un quadro che appare molto frammentato, in particolare per il trasporto su strada. Sono infatti oltre 1200 i contratti di servizio, il 70% dei quali ha un valore al di sotto del milione di euro. Dopo Marsala, Bagherì e Sciacca, il tour dell'iniziativa operazione risorgimento digitale di Timma arriva ad Enna. Una scuola mobile staziona da oggi, fino al 6 dicembre, in piazza Umberto I. All'interno uno sportello digitale a disposizione dei cittadini, che potranno chiedere informazioni e attivare servizi come lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Si fa cultura, la cultura ormai non è solo libri, non è solo teatro, non è solo cinema, la cultura è anche la cultura digitale. Le pubbliche amministrazioni hanno necessità di crescere anche sotto questo profilo. Io credo che i nostri dipendenti comunali sono ben entusiasti di affrontare questa nuova sfida che siamo chiamati a intraprendere e sicuramente il Comune di Enna raccoglierà i frutti in tal senso. Credo che lo SPID sarà la richiesta più pressante da parte dei cittadini, perché io stessa mi rendo conto che una di quelle cose che può essere utilizzata e può facilitare molto il rapporto tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni. Dal 9 dicembre partiranno i corsi in aula tenuti da un team di formatori che spiegheranno come l'utilizzo di internet possa migliorare la vita quotidiana. C'è una ritrosia nell'utilizzo degli strumenti digitali da parte della popolazione. Questa è la quarta tappa, sta avendo un ottimo successo. Qui a Enna in particolare stamattina già abbiamo completato completamente tre delle classi di formazione che faremo nelle prossime settimane. Ne faremo 16 dedicate ai cittadini e 12 dedicate alla pubblica amministrazione. Il grado di riempimento al momento è molto significativo, quindi ci fa molto piacere che questo forte investimento che stiamo facendo sia riscuotendo successo. Un consuntivo sicuramente positivo, quello dei primi 15 anni di vita di PAN, il consorzio senza fini di lucro, nato dalla sinergia delle più grandi reti dell'imprenditoria sociale, riunito a congresso alla Sala Convegni d'Intesa San Paolo a Milano. Ad oggi il consorzio è composto da Gruppo Nazionale CGM, il consorzio Con Opera ed Intesa San Paolo. Valori fondanti sono lo sviluppo e la promozione su tutto il territorio nazionale della presenza di servizi per l'infanzia in forma no profit, con un forte accento sulla qualità e sull'accessibilità per le famiglie, soprattutto in termini di costi e non ultime la costruzione e la rappresentazione di politiche sostenibili nell'ambito dell'educazione dei bambini da 0 a 6 anni. Si tratta di creare un'importante e rinnovata alleanza all'interno del Paese tra tutte le realtà che costruiscono il nostro Paese con l'obiettivo di riprogettare il nostro servizio educativo verso le nuove generazioni come un'occasione, un percorso di costruzione di cittadinanza. Quindi per fare questo noi vogliamo convocare tutti i soggetti che sono in questo impegnati e farci promotore di una ridefinizione, di una progettazione educativa condivisa ampia. È la storia di un incontro tra chi ha le competenze e non ha le risorse finanziarie e chi ha le risorse finanziarie ha bisogno di una solida guida per realizzare una base di competenze giuste, per affidare il credito soltanto ai soggetti che se lo meritano perché sanno come fare quel mestiere. Quando un consorzio dura per 15 anni e quando continua a realizzare al suo interno questo approccio democratico in cui tutti i consorziati prendono le decisioni insieme a maggioranza si è su un terreno nel quale la banca sta sperimentando un nuovo modo di essere nel sociale.